Presidente, una sorta di cerimonia di commiato in anticipo, qual è il segno secondo lei che ha lasciato, che lascerà al termine di questa legislatura dopo 5 anni di intensa attività? Io credo di aver lasciato una provincia economicamente forte, virtuosa, dove i risparmi sono notevoli, dove tutto è documentato, trascritto e dove sono evidenti il taglio delle spese. Verrò ricordato come un Presidente che ha avuto delle difficoltà, ne ho avute tante, partendo da tutto quello che mi è capitato, arrivando pure alla solitudine politica con la quale mi ritrovo in questo scorcio di legislatura. Purtuttavia, lavoreremo fino all'ultimo giorno con la identica, medesima onestà, sapendo benissimo che purtroppo le nostre decisioni impopolari hanno creato molte nemicizie. Lei all'inizio ha detto che poteva scegliere la luna di miele, invece ha scelto la strada forse più tortuosa. Uno che toglie gli sprechi, uno che toglie i telefonini, uno che toglie le linee fisse, uno che non permette che la provincia diventi una sorta di banco mat, dove si può arrivare a raggiungere dovunque. Uno che, di fatto, dimezza le spese di convegni, di pubblicazioni, di attività sociali e compagnia bella. Credo che amici ne abbia pochi e per cui non è questo un percorso della luna di miele. Il suo cavallo di battaglia è stato l'aeroporto, ecco, quasi un sogno accarezzato che però non forse potrà concretizzare. Ma vedi, l'aeroporto è lì, dietro l'ancolo. Purtroppo il sintaco Graci non ha voluto contribuire alla realizzazione di questa storica impresa. Me ne dispiace perché io gli volevo pure bene, però ha preferito avere la condizione favorevole di beccarsi qualche voto di qualche agricoltore che protesta, anziché dare un servizio alla collettività e alla provincia intera. Quando lo sta segnando il processo a carico nei suoi confronti? Moltissimo. Mi segna perché fino a quando non viene a galla la verità e fino a quando non si ripristina l'onorabilità di questa figura, è chiaro che sono sul cubo di attacchi immeritati perché nessuno va a cercare le lettere anonimi, nessuno va a cercare tutto quello che ha di fatto condizionato la mia vita e la mia esperienza. Dall'Asta ha deciso di abolire le province, il 30 giugno arriverà il commissario. Quale sarà il futuro politico di Eugenio Dorsi? Io ho avuto offerto da Lombardo la segreteria regionale, questa passa attraverso sicuramente una lezione, purtuttavia ripeto io continuerò a fare politica nella maniera e nella misura in cui ritengo di rispettare la collettività e le persone che mi circondano.